Il gatto stivalato Ai tre figli che avea un mugnaio non lasciò altro che un mulino, un somaro e un gatto. La divisione fu presto fatta, senza bisogno di notaio o procuratore, che s'avrebbero mangiato essi tutto il misero patrimonio. Il maggiore ebbe il mulino, il secondo l'asino e l'ultimo il gatto. Non si consolava a questi che gli fosse toccata una così magra porzione. Miei fratelli, diceva, potranno mettendosi insieme guadagnarsi onestamente la vita. Per me, mangiato che avrò il gatto e fattomi della sua pelle un manicotto, bisognerà che muoia di fame. Il gatto, che udì queste parole senza però farne le viste, gli disse in tono serio e posato. Miei fratelli, diceva, non vi affliggete padroncino mio. Datemi solo un sacco e fatemi fare un par di stivali per andare nelle macchie. E vedrete che la vostra sorte non è poi tanto cattiva quanto credete. Miau! Benché poco ci contasse, il padrone del gatto non disperò di cavarne un certo aiuto. Tante bravure gli avea visto fare per acchiappar sorci e topi. Ora sospendendosi per le zampe di dietro, ora facendo il morto sulla farina. Avuto il fatto suo, il gatto si infilò gli stivali, si mise in collo il sacco, ne afferrò i cordoni con le zampe davanti e se ne andò in una conigliera dove i conigli abbondavano. Empì il sacco di crusca e di cicerbite e, sostenendosi come se fosse morto, aspettò che qualche giovane coniglio, poco esperto delle malizie di questo mondo, si insinumasse nel sacco per mangiarvi quel che vi aveva messo. Coricatosi appena, il colpo fu fatto. Uno storditello di coniglio entrò nel sacco e Mastro Gatto strinse subito i cordoni, lo prese e lo uccise senza misericordia. Tutto glorioso della preda, se ne andò dal re e domandò udienza. Lo fecero montare agli appartamenti di sua maestà e là, fatto al re un profondo inchino, disse il gatto. Ecco maestà, un coniglio di conigliera che il signor Marchese di Carabas, così gli venne in testa di chiamare il suo padroncino, Mi ha incaricato di presentarvi. Dirai al tuo padrone, rispose il re, che del regalo son molto compiaciuto e lo ringrazio. Un'altra volta andò a nascondersi in un campo di frumento, tenendo sempre il sacco aperto, e quando due pernici vi furono entrate, tirò i cordoni e le prese tutte e due. Poi se ne andò dal re e gliel'offrì, come avea fatto dei conigli. Il re accettò volentieri le due pernici e gli fece dare una mancia. Per due o tre mesi continuò il gatto a portare al re di tanto in tanto un po' di caccia da parte del suo padrone. Saputo un giorno che il re doveva andare a spasso e riva al fiume, insieme con la figlia, che era la più bella principessa di questo mondo, disse al suo padroncino, Il marchese di Carabas seguì il consiglio del gatto, senza indovinare a che potesse servire. Mentre faceva il bagno, si trovò a passare il re, e il gatto si die a gridare con quanta ne aveva in gola. Aiuto, aiuto, il marchese di Carabas s'annega! A quel grido il re si affacciò allo sportello, riconobbe il gatto che tante volte gli aveva portato della caccia, e ordinò alle sue guardie di accorrere subito in aiuto del marchese di Carabas. Mentre tiravano fuori dall'acqua il marchese di Carabas, il gatto si avvicinò alla carrozza, e disse al re che due ladri erano venuti e avean portato via i vestiti del marchese, per quanto egli si sgolasse a gridare al ladro. Il furbaccio li avea nascosti sotto una grossa pietra. Il re ordinò subito agli ufficiali della guardaroba di andare a prendere il più sfarzoso vestito che vi fosse per il signor marchese di Carabas. A lui stesso fece il re mille gentilezze, e poiché i bei vestiti rialzavano la bella figura del giovane, la figlia del re lo trovò molto di suo gusto, e non appena il marchese di Carabas l'ebbe rivolto due o tre occhiate rispettose, ma un po' tenere, se ne innamorò fino alla follia. Il re se lo fece montare in carrozza, e lo volle compagno della passeggiata. Il gatto, tutto lieto di veder riuscire il piano architettato, si die a fare il battistrada, e avendo visto dei contadini che falciavano un prato, disse loro, Buona gente che falciate, se voi non dite al re che questo campo appartiene al signor marchese di Carabas, sarete trinciati e tritati come la carne per le salsicce. Non mancò il re di domandare ai falciatori a chi apparteneva a quel prato che falciavano. Al signor marchese di Carabas, risposero tutti ad una voce. Tanto avevano avuto paura della minaccia del gatto. Avete costi una bella eredità, disse il re al marchese di Carabas. Voi vedete, maestà, rispose il marchese. È un prato che tutti gli anni mi dà un reddito abbondante. Mastro Gatto, che correva sempre avanti, incontrò dei mietitori e disse loro, Buona gente che mietete, se voi non dite che tutto questo frumento appartiene al signor marchese di Carabas, sarete trinciati e tritati come carne di salsicce. Il re, che passò subito dopo, volle sapere di chi fosse tutto quel frumento. Del signor marchese di Carabas, risposero i mietitori. E il re se ne rallegrò di nuovo col marchese. Il gatto, che precedeva sempre, ripeteva la stessa storia con quanti incontrava. E il re stupiva dei grandi possedimenti del signor marchese di Carabas. Mastro Gatto arrivò finalmente ad un bel castello, il cui padrone era un orco, il più ricco che mai fosse, poiché tutte le terre già dal re attraversate dipendevano da quel castello. Informatosi di quel che fosse Cotestorco e di quanto sapesse fare, il gatto domandò di parlargli, dicendo che non avea voluto passare così vicino al suo castello senza aver l'onore di fargli riverenza. L'orco lo accolse con tutta quella affabilità di cui un orco è capace e lo fece riposare. Miau, mi è dato ad intendere miau, disse il gatto, che voi avete il dono di mutarvi in qualunque sorta di animale, che potete per esempio diventare leone o elefante. È vero, rispose Burbank. E per dimostrarvelo, adesso vedrete come mi trasformo in leone. Il gatto fu così spaventato di vedersi davanti un leone che spiccò un salto fin sulle grondaie. Non senza fatica e pericolo, a motivo degli stivali che non erano buoni per camminare sui tetti. Qualche tempo dopo, vistogli mutar forma, il gatto ridiscese e confessò di aver avuto una gran paura. Miau, mi hanno pure assicurato, disse. Ma io non ci credo, miau, che voi potete anche prendere la forma dei più piccoli animali di cambiarli, per esempio, in topo o sorcio. Vi confesso però che la cosa mi pare impossibile. «Impossibile?» esclamò l'orco. «Adesso vi fa vedere!» E detto fatto, si mutò in un topolino, che si dia a correre sul pavimento. Subito il gatto gli saltò addosso e ne fece un boccone. Il re, intanto, passando pel castello dell'orco, volle entrarvi. Il gatto, che udì il rumore della carrozza sul ponte elevatoio, corse incontro e disse al re. «Benvenuta, amistà, nel castello del signor Marchese di Carabas!» Miau! «Come, signor Marchese?» esclamò il re. «Anche questo castello è vostro?» «Niente, può essere più bello di questo cortile e di tutte le fabbriche circostanti. Vediamone l'interno di grazia». Il Marchese diè la mano alla principessina e, tenendo dietro al re che saliva, entrarono in un'ampia sala, dove trovarono una lauta colazione che l'orco aveva fatto preparare per certi suoi amici, che doveano venire quel giorno stesso, ma che non aveano osato entrare, sapendo della presenza del re. Ammaliato dalle buone qualità del Marchese di Carabas, come già la principessina ne andava matta, e vedendo i molti beni da lui posseduti, il re gli disse, dopo aver bevuto cinque o sei bicchieri di vino, «Sol che vogliate, signor Marchese, voi potete divenir mio genero!» Il Marchese, facendo inchini sopra inchini, accettò l'onore che il re gli faceva. E quel giorno stesso si sposò la principessa. Il gatto divenne gran signore e non corse più dietro i topi che per solo passatempo.